arriviamo No, no, no ! Io vado da questa No io vado da questa ok io vado da questa Salve Ok Se non una FK Anche se è un'idea No 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 per piacere non mi fai No 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 Mi apri qui per piacere Apri qui per piacere Voglio fuggire Aiuto 1 2 3 Ok cosa vogliamo fare Allora Ammazza questo Ammazza questo tizio Quello si tutto tuo Tutto tuo Tutto tuo Oh 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 Toffi 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 Oh Attento No Non la dente Hai la chiave Hai la chiave Sì Ok Andiamo sempre di tipo Devi venire online su Steam Prima possibile Ok vabbè Aspè Destra Destra Ok Eeeh Qui 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 Ti ruba Ti ruba Eeeh Ok Vai 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 hai Mollami l'arma, mollami un'arma Questa non è esattamente un'arma Ok, va bene Oh, merda Oh, merda Siamo qua fermi Sì, vabbè, chi c'è da percine? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Sì. Ok. Che bello, sono sicuro. Vai. Ti seguo. Show me the way. Andiamo. 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 Oh, grazie, sei la mia salvezza, ti ringrazio, è un casino. Però mi sa che solo ci sarà gente. Ok. Ok. Mi toco giù tutte le armi che possono servire. Tutta la roba. Grazie, ti adoro. Caniii. Uh, 106. Sono 106. Io sono il cagnolino che va a rompere le palline. Vabbè, io avevo un cagnolino che si chiamava Timo. No, piccolino. Io sono 106, un saldato di guerra. Allora. Quanti siete? Guardia, non gli ho chiederei. Aiuto, no! Dove sei? Ok. Sono tutti qua. Come facevo parlare per le persone? No, sei morto. No, no, ci sono, ci sono, ci sono sopra. Volevo tentare di distrarre, vai. Vediamo se ne scopriamo le porte. Sono dove ci sono queste persone orribili. Ehi là. Sei ancora vivo? Sì, sì, ci sono, ci sono. Ehi là. Come si parlava con le persone? Io sono all'elevator. Ah, salve. Salve, salve. Salve. Ehi, ehi. 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 Sì? Scompaiono quelle bestone di merda. Ehi. Ma com'è che si ottiene la nera? Ehi. Aiuto. Una volta che hai la rossa. Ah. Ragazzi. Aprite. Ma sei all'elevator. Ehi, cioè... Oh, tu, tu, tu. Se vuoi sono tutti qua. Sono tutti qua, se vuoi. Tutti qua, tutti i tuoi. Ciao, come stai? Non più la keycard. Buongiorno. Stanno andando il coso. Eh, lo so, lo so. È stato divertente. Zoccare in allegria. C'è uno che ha il... Sto inseguendo. Ehi, dove vai? Wey. Ehi. Fermo lì. Fermo lì. Fermo lì. Wey. Fermo lì. No, sono arrivati altre persone. Dai, vieni che ho fame. 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 Non lo so. Vieni qua. Ehi. 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 Sono... Guarda, guarda, l'olezzo. Con le poste. Buon salve. Buon salve. Buon salve. Ok, tutti i tuoi. Vieni che ti seguo su YouTube. Lo so, lo so che mi segui su YouTube. È per questo che devi morire. Divor... Dai, 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 dai. Fatti divorare per YouTube. Fatti divorare per YouTube. No, no, no. Sto registrando. Fatti divorare. Vieni. Dai, dai. Fatti boggiare. Dai. Blank, dai. Fermati per piacere. Ho fame. Ti dice. Ti dà un volo. Ti voglio dare un po' di... Dai. Sono un moscicone. Non ti uccido. Sono un moscicone. No, no, no. Sono un moscicone. Per YouTube. Sono un moscicone. Dai. Non è l'altro che è là dentro. Ok, va bene. Merda, se entrano là dentro e premere il bussante, io sono fregato. Devo solo provare a premerlo. Dai. Ce n'è uno. Ah, è black. Dai, ble... Black. No. Oddio, no. E c'è anche una... Viene qua. Viene qua. Oh, non hai più il sacrificio. E ora... L'ho fatto io. Ho preguto il bussante come un idiota. No. Perché lo hai fatto? Mi vai. Non mi hai fatto perché mi sono rosso. Le valle. Vieni qua. Ho fame. Ho fame. Viene qua. Dove vai? Sei la mia vittima Dove vai? Oh, ecco te qui Dove vai? Dove pensi di andare? Eh, Black? Dove vai, Black? Vieni qui, Blacky Vieni qui, Blacky Dove vai? Black Cosa vuoi fare? Il giro giro tondo Solo devi stare fermo Oh, hai portato un amico Hai portato un amico Hai portato un amico Adesso mangio il tuo amico Oh, grazie, ti adoro Hai portato un altro amico Hai portato un altro amico Che bello, vieni qua Vieni qua Io mi sto avvicinando Cibo, cibo Cibo, cibo, cibo Non ti vergogni? Cosa? Non ti vergogni? Buonasera, tutti quanti Benvenuti su SCP-6 Laboratori E diamo il benvenuto a Sandra-Ida Ciao Ehi, 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 ehi E comunico che l'SCP-3 Cioè il cane Sì, ci stai seguendo Quindi Ciao Ciao Dai Perchè ti allontani così? Ho corso abbastanza contro una persona Non muove Dai Stai fermo Per piacere Mi fate venire fame Mi fate venire fame così Bastarde figli di buona donna Apri 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 Oh, grazie 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 Ehi, ehi, ehi Ehi, cosa fate? Ehi, ehi Ehi Non si fa Non si Ehi, ehi Non si fa Non si fa Almeno fammi ammazzare Freddy Almeno fammi ammazzare Freddy Fammi ammazzare Freddy Vieni qua Toffy No Vieni qua Toffy Sì Fottiti Uh, Freddy Vieni qua Vieni qua Freddy Vieni qua Freddy Vieni qua Freddy Sono Dai È dall'inizio del round Che sono vivo La cimita No Freddy Oh Freddy Vieni qua Fammi uscire di casa Non so Sarve SCP Non Oltre Tanto S**t No 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 Alla fine La mia missione è riuscita Ho ammazzato Black Wolf Alla fine Ce l'ho fatto La mia missione è rammazzare Black Presto direttente Ciao 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 Sono di camisa e ranzo Non mi piace Ciao Ciao Indie Ciao persona orribile Ora Fermili Che tasse Ok 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 Non possiamo Ma come non ci piace questo gioco? Mmm Bisogna avere la carta nera Per potere dopo andai Si Mi piace Mi piace Mi piace Sì È un bel canale Ok Però rubiamo abbastanza Dai Dai Indie 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 Cosa? Indie 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 Perchè? Indie 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 Lo so Indie 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 Ma perché devi ucciderli tutti così? Perché? Oddio Io odio Tofili adesso Ah la mia kill streak Maroc No adesso devo uccidere Tofili Non me ne frega se devo proteggere Devo uccidere Tofili Quale anche per me Bastardo mi ha ammazzato così A cazzo Adesso lo uccido Va lo salvo Poi lo uccido Let's go let's go let's go Ti salvo e poi uccido Si appunto no devi capire lo salvo Appena sull'elicottero mi sparo un colpo in destra Poi dico ops è accendentale Eh no ma chi è che salva e poi uccide Eh dipende perché sarà missione salvare Fino ad un certo punto portarli a confine Poi dopo a confine puoi ucciderli perché la missione è completata Eh No ma io vorrei sapere solo chi è che vuole uccidere Eh io voglio uccidere Tofili Che è uno delle classi D Ah ok Perché mi ha ucciso per sbaglio Si si ha fatto la doccia Salve Qui è Indy the Wolf che parla in questo preciso momento Stiamo per venire a salvare i classi D Però devo ricordare una persona chiamata Tofili Che dovrà morire molto ma molto male Grazie per l'ascolto e arrivederci Arrivederci Merda mi sa che Tofili è già morto Mi sa che Tofili è già morto Mi sa che Tofili è già morto So sedo So sedo So sedo So sedo Ah beh mi sa che usciranno prime Perché mi sa che non ci sono Mi sa che non ci sono più di forse Credo Non lo so Beh no Se non ci fossero di Non saremmo spawnati Ah beh però Ok no aspetto Vi dobbiamo andare Ok no allora devo andare questo Aspetta un attimo Vieni qui Ok andiamo al silo C'è la camperiamo qua che quando arrivano non possono sbordere Vai lascora 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 la possiamo attivare da sotto Insomma sono arrivato con la TF potete Cosa hai detto? Insomma sono arrivati gli NTF Fottetevi Le belle cose Oh arrivano 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 1 2 3 E lo ma da faccia Ok E lo ma da faccia un patti coglioni E lo ma da faccia un patti coglioni Ha 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 Grazie a tutti.